Putin dice, Picasso LL, seconda fila Premier Pride, Pompadour e Passione Dete, Perfect Step LF e Passione Dete corrono il rapporto di scuderia, 1,57€ a gioco ancora aperto, la quota del vincente, con cautela Parombred, con cautela anche Perfect Step, che viene scavalcato da Putin di cielo e più a largo dal numero 6 Picasso LL. Lungo la corda Pujol Fas, passa Picasso, su Putin dice, a largo interviene Perfect Step, 200 veloci in 14,8€, Picasso corre davanti, adesso Perfect Step cerca di convergere in terza posizione, ma la mossa non riesce per l'inserimento di Pujol Fas. Nel frattempo Picasso ha percorso un quarto veloce in 29,2€, Picasso LL, Putin dice, a largo Perfect Step, il galop improvviso di Pujol Fas, 44,3€, 600€. Perfect, continua comunque a largo, adesso è ai fianchi di Putin di cielo, in quarta posizione Parombred a precedere il 7 Premier Pride, giro di pista notevole in 59 secchi, Picasso, Picasso, Putin Perfect, poi Parombred, si arriva così al completamento del chilometro, che il leader può percorrere in 1,14,2€. Rinviene lungo la corda Putin, poi Perfect sollecitato, Parombred, Premier Pride, tre quarti di miglio in 1,28,8€. Prova lo stacco Picasso, inseguito da Putin, poi Parombred che va di dentro, poi anche Premier Pride che sceglie di andare a largo, retta d'arrivo, Picasso in vantaggio. Il vantaggio sempre aumentare con il passare dei metri, Picasso LL da un capo all'altro, si distende Parombred e viene a cogliere un'ottima seconda moneta. Picasso LL, Parombred, Putin di cielo, è questo l'arrivo del centrale, del clou del pomeriggio, il premio Messina che ha visto Picasso LL correre da un capo all'altro all'eccellente media di 1,13,6€. Nessun quarto al di sotto del 30, 29,6€ quello conclusivo, alla grande anche Parombred, quindi Picasso LL da un ometro e udore LB, 4,43€ la quota del vincente, i colori della nazionale SAS. Il training di Vincenzo Tufano, in salchi, preciso, convinto di avere del buono in mano, Antonio Dinar. Diceva molto bene Parombred al secondo, che quando si è disteso è riuscito a prendere un ottimo piazzamento, ai danni del sempre regolare, Putin di cielo, finito al terzo posto. Quindi, arrivo!